give me ash please give me ash please dammi ash ragazzo siete stupidi io la voglio prendere va bene ti ammazzo eh i kill you raggiungete il contenitore di biorischio difendetelo cambiocaricatore affiatare detto lascia me sa che questo non lo so non lo so sa devi lasciarci sono dopo l'ammazzo e basta bravo fortissimo tutto scemo chiama pronta a Sì. 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 Ultimo nemico rimasto. Difensori neutralizzati. Vittoria per gli attaccanti.